Ho preso pure di Rabona, dovrei vincere subito Quasi Ce l'abbiamo questo che ha rotto la porta Ragazzi se siete pronti io partirei con un Two Touch Challenge come riscaldamento So che siete esperti quindi Spiego velocemente le regole per i tifosi Dovrete fare due tocchi, fare il passaggio Al compagno, ovviamente il primo Che arriva a tre errori, perde No Look Challenge Senza guardare dovrete calciare il pallone E colpire il pallone posizionato Al centro della porta Forner Challenge Dovrete calciare da quattro punti E distanze diverse dalla linea di fondo E distanze diverse dalla linea di fondo Crossbar Challenge Vince chi colpisce più volte la traversa Faremo tre tentativi Il primo dal limite dell'aria Poi da 25 metri E poi da centrocampo Esatto Il primo dal limite del modo også Exacto Sono terminate le quattro sfide qui allo stadio Philadelphia, due le ha vinte Vagna, una Carol, una è terminata in pareggio. Ringraziamo ovviamente Vagna Melinkovic, Savic e Carol Linetti. Un saluto da parte di Star Casino Sport e Sport Toro.